ciao ragazzi benvenuti su italian film collector sono qui per presentarvi i nuovi arrivi by play on play on italia che ovviamente mi ha omeggiato di quasi tutti i nuovi arrivi e niente poi tra l'altro c'è pure un altro arrivo che comunque della stessa della stessa diciamo della stessa play on quindi ve lo faccio vedere lo stesso allora abbiamo le buone stelle broker un film di core da irokazu migliore attore a festival di can in 4k in collaborazione con la lucky red e niente andiamo a vedere all'interno troveremo questi escono in questi giorni quindi a breve li troverete disponibili qualcuno l'ha già prenotato e quindi è già in viaggio quindi disco 4k e disco blu ray vi leggo un po' diciamo la retro copertina il maestro giapponese torna in corsa per la parma d'oro con un film che rielabora le sue solite splendide ossessioni su famiglie e legami umani a Busan la giovane madre in difficoltà Soyang decide di lasciare il figlio appena nato nella baby box di un ospedale a intercettare il pargolo però sono per Sang Yang e Dong Sung che gestiscono un'attività clandestina di contrabbando di bambini per i quali cercano i genitori giusti nonché i migliori offerenti in tutto il paese dopo aver convinto la madre che sia la scelta migliore per il futuro del piccolo Wu Sung il gruppetto inizia il viaggio ignaro che sulle sue tracce ci sia la poliziotta Su Jin la giovane collega lì e la giovane collega lì determinate ad arrestare i criminali dopo averli colti sul fatto qui abbiamo un disco 4k non mi pare di leggere che ci sia HDR a quanto pare quindi dovrebbe essere un 4k non voglio dire bagianate ma dovrebbe essere un 4k quindi liscio quindi senza grading quanto pare sì non vedo la scritta HDR da nessuna parte quindi con riservo di errore vi dico che non c'è l'HDR sul disco 4k abbiamo l'italiano 5.1 DTS Master Audio stesso della lingua anche sul Blu-ray poi c'è il coreano ovviamente anche lì in 5.1 DTS 5.1 Master Audio circa 130 minuti quindi sì confermo 4k SDR c'è scritto quindi è in 4k in standard grading e niente andiamo a vedere il prossimo questo è un Blu-ray Paranormal Activity parente prossimo questo è un film ora non ricordo la data di uscita sinceramente vi leggo dietro ovviamente la trama anzi però mi perdonatemi voglio vedere se qui ci sono degli extra abbiamo soltanto un'intervista al regista e il trailer qui invece partiamo degli extra abbiamo soltanto scene eliminate mentre la trama il nuovo terrificante capitolo dell'universo Paranormal Activity dai produttori di Jason Blum The Conjuring e Oren Pelli Paranormal Activity la regista di documentari Margaux si rega in un'isolata comunità Amish nella speranza di incontrare e scoprire qualcosa su sua madre e i suoi parenti verduti dopo una serie di strani accadimenti scoperte lei e la sua troupe si rendono presto conto che questa comunità li ha accolti potrebbe nascondere qualcosa di sinistro questo è un Blu-ray semplicissimo quindi Amarai per il nuovo capitolo di Paranormal Activity stavo cercando da qualche parte la data di uscita del film non sto riuscendo a trovarla comunque abbiamo un DTS Master Audio per l'italiano quindi anche di italiano 5.1 no italiano e Dolby Digital 5.1 in inglese in DTS 5.1 Master Audio HD altro titolo per la Midnight Factory in questo caso abbiamo The Innocent ovviamente la classica slippina che mi piace tanto questa qui andiamo a vedere però prima all'interno come ci è abituato la Midnight abbiamo questa fascetta esclusiva il BR e il solito libricino booklet curato se non erro da nocturno si curato da nocturno sempre fatti bene i Midnight andiamo a leggervi un po' la trama poi vi dico anche le specifiche tecniche lo straordinario secondo film di Ex League Vogt è uno dei migliori horror degli ultimi anni ed è un instant classic Cine Europa questo lo dice un horror norvegese minimale e sofisticato che gioca a scoprire il male nella mente di un gruppo di bambini con poteri extrasensiorali sentieri selvaggi lo dice questo poi vi leggo la trama quattro bambini diventano amici durante le vacanze estive lontani dalla vista degli adulti scoprono di avere dei poteri nascosti mentre esplorano le nuove abilità nelle foreste e nei campi da gioco vicini il loro gioco innocente prende una svolta oscura e iniziano ad accadere cose strane e sempre più inquietanti qui abbiamo l'italiano in 5.1 HD Master Audio e anche il norvegese quindi non c'è inglese durata 117 minuti e menu in italiano ovviamente e niente bel prodotto sono curioso altro titolo per la Midnight Factory è Mona Lisa and Blood Moon anche qui ragazzi vi ho tolto il cielo fan per stringere i tempi e anche qui abbiamo la Marai con la faccetta esclusiva il Blu-ray e anche qui abbiamo il suo bucletto curato da nocturno a meno che non faccia la figuraccia si è nocturno ma in genere sono tutti curati da nocturno quindi si va quasi sul tranquillo quindi andiamo a riporre qui ragazzi vi chiedo scusa se sono particolarmente stanco in questi giorni non so il perché sarà il tempo ma mi sento particolarmente stanco si vede forse dalla faccia allora poi questa era una parentesi in un manicomio americano una donna è stata in isolamento per più di 10 anni possiede poteri unici e straordinari con cui può controllare i pensieri degli altri con la luna piena si risveglierà dello stato catatonico in cui si trova e si darà alla fuga nascondendosi nel quartiere francese di New Orleans dove viene accolta da una spogliarellista agguerrita e suo figlio mentre un biscotto e la fortuna avverte un poliziotto alla sua ricerca di dimenticare ciò che sa ora vi dico cosa dice nocturno è stata zitta per 10 anni a fissare le pareti della sua cella imbottita poi ha detto basta una coduriosa sequenza gore bellissima quindi questo è già un film con un cielo stregato una discoteca nel cruscotto e una calcia al ladro dai poteri psichici questo lo scrive My Movies niente qui abbiamo DTS 5.1 Master Audio italiano ed inglese 107 minuti extra soltanto il trailer sono un po' poveri di extra ma va bene così altro titolo per la Midnight Factory abbiamo Man in collaborazione con la A24 questo è anche un altro horror molto atteso andiamo a vedere la solita fascetta esclusiva qui abbiamo un 4K Ultra HD come potete vedere sono curiosissimo di vederli subito tutti e anche qui abbiamo il suo booklet curato come sempre da nocturno questo è un film che io voglio mangiarmi subito sono molto curioso si vanno bene a volte i classici ma anche gustarsi qualcosa di nuovo e di fresco diciamo non fa male poi sapete come la penso in riguardo ai diciamo la questione capolavoro non capolavoro i film devono essere godibili prima di tutto ovviamente poi c'è qualche ciofechina non diciamo di no però i film soprattutto poi vanno prima visti poi giudicati e vanno visti con un occhio leggero e non ipercritico questo non l'ho visto quindi non sto parlando di questo ma parlavo in generale terrificante dice Total Film grandioso e Daily Telegraph incredibile a V-Club e da incubo il Telegraph tutti 5 stelle Harper Jesse Buckley mi perdonate mi provviso mi è uscito da Jesse non so perché è appena uscita da una terribile tragedia che ha segnato la donna nel profondo per suerare il trauma Harper si trasferisce da Londra in una casa isolata nel mezzo della campagna il percorso di riabilitazione subisce però un incidente di percorso quando Harper durante una passeggiata in campagna vede a lontano un uomo nudo l'uomo la seguirà fino a casa costringendo Harper a chiamare la polizia lo stalker uscirà poco dopo di prigione e non sarà l'unico elemento della comunità a comportarsi in modo strano con lei mettendola alla prova per confrontarsi con i suoi sensi di colpa per la morte dell'ex marito qui abbiamo un disco 4k vediamo un attimo vediamo addirittura qui c'è il Dolby Vision quindi HDR ben presente italiano 5.1 DTS Master Audio inglese stessa lingua stessa audio sul Blu-ray contenuti extra abbiamo soltanto intervista al regista e il trailer ragazzi consigliato poi abbiamo Super 8 di G.J. Abrams e dal produttore Steven Spielberg film che posseggo in Blu-ray ma forse non ho mai visto no l'ho visto l'ho visto l'ho visto Super 8 l'ho visto procedevo in Blu-ray questo è un 4k ha lo stesso artwork della Steelbook uscita qualche tempo fa andiamo questo è un nuovo sempre 4k HDR Sì non vorrei dire sì c'è l'HDR assolutamente sì abbiamo i due dischi la slipcase ve l'ho fatta vedere l'artwork della la fascetta della Marai è uguale un film venato di tenerezza destinata a diventare mito G.J. Abrams e Steven Spielberg uniscono le forze in questa straordinaria favola di gioventù mistero e avventura Super 8 narra la storia di sei amici che assistono al deragliamento di un treno mentre girano un filmino in Super 8 e scoprono che qualcosa di inimmaginabile è sfuggito al disastro presto si renderanno conto del vero mistero non rappresentato dall'esistenza della creatura ma da ciò che essa desidera godetevi quello che i critici hanno definito un film ricco di mistero che si candida ad essere l'ET del decennio come contenuti speciali abbiamo oltre due ore dice qui dietro commento del regista G.J. Abrams e dei filmmaker 8 documentari esplorare le origini della storia il casting la creazione della creatura e molto altro analisi dell'incidente ferroviario scopri i segreti della realizzazione di questa incredibile scena e 14 scene inedite come audio abbiamo in italiano 5.1 Dolby Digital mentre in inglese è un Dolby True HD 7.1 niente bellissima questa slip ragazzi non vi nascondo che in alcuni casi a me le slip case piacciono più delle delle steelbook che le steelbook a volte non le farò vedere una ma sono un po' di moda non è che poi bella bella e infine un altro prodotto sempre targato play on è pulp fiction steelbook ovviamente play on in collaborazione con la paramount andiamo a togliere il flyer che è bello cartonato doppio allora io possedgo già la metal box della eagle famosa tra l'altro quella con il libricino dentro dei menu di Quentin Tarantino niente è stata criticata ragazzi sta steelbook a me sinceramente piace è molto bella anche la slip case che sta uscendo adesso ma sinceramente questa non è per nulla male abbiamo il 4k tra l'altro ho letto in giro ma anche dai miei amici moreno da qualcun altro che ha visto il film parla comunque di no forse moreno no ho detto una cazzata ho visto da chi l'ha visto che è davvero fatto un ottimo lavoro di master e di restauro no che il blu ray precedente fosse brutto anzi era anche lì un lavoraccio fatto davvero bene ma ce lo godremo in 4k a breve un attimo che tolgo questa colla che se no rovina la steelbook perdonatemi vabbè poi la toglierò con calma e niente questa è la steelbook di pulp fiction tra l'altro abbastanza sostanziosa niente ragazzi io spero che il video come al solito vi sia piaciuto che non vi abbia annoiato ho provato a farlo più breve possibile ve li ho fatti trovare già senza cellophane quindi niente ringrazio ancora la play on italia per la stima appunto per avermi omaggiato di questi splendidi titoli e niente io vi rimando penso che in settimana farò qualche altro video perché io arrivi da dvd store soprattutto da home movies dovrebbero arrivare entrambi domani ma penso di fare due video separati vedremo poi non so questo penso più settimana prossima fra di tutto da 15 giorni mi dovrebbe arrivare qualcosa da weinegar davvero bello weinegar syndrome poi vabbè c'è un po' di come al solito noi abbiamo sempre carne al fuoco quindi lo sapete meglio di me siete come me quindi chi segue questo canale alla fine è un collezionista come me chi più chi meno in base alla possibilità e in base ad altro riusciamo a stare dietro ah dovrebbe arrivare raro film con non so se questa settimana questo fine settimana si inizia la prossima con come si chiama con l'avvocato del diavolo che io sto aspettando tantissimo la mia one click quindi niente ci sarà davvero da divertirci quindi ragazzi state sul canale iscrivetevi mettete la campanella insomma seguitemi va bene il mio piacere è comunque l'interazione io ve lo dico sempre lo faccio con passione anche quando sono stanco non mi interessa altro non voglio che comunque si passa un po' di tempo in compagnia ciao a tutti e buona giornata ciao a tutti ciao a tutti